I pesci sono come le idee. Io li vedo spesso danzare. Spariscono nel blu infinito, sotto la superficie lucente, e mi chiedo se abbiano mai desiderato volare. A volte mi sembra di averne preso uno, ma è solo un'illusione, un sogno distorto. Scivolano via tra le dita come un pensiero da cui sono distolto. La loro libertà è contagiosa, ma a lasciarsi trasportare in un altro universo riesce solo chi osa. Ho cominciato a volare e la vita risuona. Questo è il segreto perché la pesca sia buona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.